Tutti da Christian T. James, salutatore del blog, grandissimo Scoop, Paolo Belli che è una sorpresa per tutti. Su YouTube, Facebook, Twitter, chat, Steve Jobs, Bill Gates. Grandissimo, e poi salutiamo anche il tuo sito qual è, ricordiamo a tutti. Paolobelli.it, pagina Twitter, Facebook, è matto lui, credetemi. Grandissimi, grande Paolo, ciao.